Hai voglia di crackers ma non puoi mangiare la farina? Beh, io ho risolto il problema, vi faccio vedere cosa mi sono preparata oggi. Guardate qua, questi sono i miei cracker con semini, guardate, croccantissimi, sentite, e super sani. Seguitemi, qua c'è la ricetta e andate a scuriosare su Instagram. Ciao ciao! 240 ml di acqua, 235 g di semi misti e 50 g di semi di chia. Unisco tutti i semi e poi metto l'acqua, mescolo, 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 finché non ottengo un composto leggermente appiccicoso, dato logicamente dai semi di chia. Ecco qua, questa è la consistenza, stendo su due foglie di carta da forno. Adagio sulla placca del forno, mi aiuto col cucchiaio, in forno 10 minuti a 180 gradi, dopodiché strago, taglio cracker e nuovamente in forno 10 minuti. Anche 20 in base al vostro forno, finché non diventano croccanti.